11 vittorie consecutive e quinto posto in classifica che ovviamente potrebbe portarli ai playoff. Tra l'altro tra poco il ritorno con il derby, lo storico derby con il Caserta e stiamo parlando del Napoli Basket, una squadra che è nata solo pochi mesi fa ma che già da oggi sta raccogliendo dei bellissimi frutti per il suo duro e lunghissimo lavoro. Diamo il buongiorno al presidente Federico Grassi che è qui con noi, buongiorno, ben trovato presidente. Buongiorno. E poi c'è con lei il coach Gianluca Lulli, buongiorno. Buongiorno a voi. E ancora il capitano Francesco Guarino, ben trovati tutti a mattina noi. Parliamo di basket, Napoli Basket, fare basket a Napoli sicuramente oggi è un'impresa non facile, però oggi quinto posto in classifica che potrebbe portarvi ai playoff. Qual è il segreto di questo successo? Rai avuto in così breve tempo. Il successo è una buona amalgama di squadra, partendo dal presidente, arrivando all'ultima persona che ci sta dando una mano. Siamo riusciti, nonostante la partenza e il ritardo, a creare un buon gruppo. Abbiamo avuto le difficoltà iniziali, però lo sapevamo perché comunque iniziando un po' più tardi c'era questa difficoltà, però alla fine siamo riusciti tutti insieme a fare un ottimo lavoro e quindi iniziare ad avere questi successi che in questo momento ci hanno portato a una buona striscia. Gianluca, nel frattempo siamo così in preparazione per il prossimo derby storico tra Napoli e Caserta o una gara di ritorno che è importante per assicurarsi la zona playoff? È importante per tantissimi aspetti perché comunque il derby esula dai soliti risultati, quindi ci stiamo preparando già da ieri perché è una partita importante per la società, è una partita importante per la squadra, ma è soprattutto una partita importante anche per continuare questo percorso, ma soprattutto è importante per i nostri tifosi vista la rivalità, per cui ci teniamo comunque a fornire una grande prestazione in un palazzetto molto importante che ha fatto la storia della palacanestra italiana. Tanti anni da giocatore in Serie A, alcuni dei quali anche tra Pozzuoli e Napoli, ora il grande salto sulla panchina. Che carismo, soprattutto quanto può dare alla squadra una personalità così grande come la tua, così completa direi? Io la ringrazio, io chiaramente il fatto di essere stato un ex giocatore credo che in alcuni aspetti ti aiuta proprio nella gestione e nel rapporto con i giocatori. Credo che ci sia la fiducia massima della società e soprattutto dei miei ragazzi su tutte le cose che abbiamo proposto sia a livello tecnico, tattico e mentale che abbiamo proposto dall'inizio dell'anno, quindi chiaramente è importante per noi allenatori capire i momenti durante la settimana, i momenti durante anche la stagione, è fondamentale il rapporto di massima stima, di stima reciproca che ci deve essere tra squadra e staff tecnico. Bene, i ragazzi diciamo che abbiamo il capostipite qua oggi, che abbiamo il capitano Francesco, a quale domanderei? 11 vittorie consecutive, sono un ottimo numero che rappresenta la crescita di una squadra che punta in alto adesso, che cosa è scattato nel corso di quest'anno, nel campionato di quest'anno rispetto agli anni trascorsi? Ma diciamo che 11 partiti in fila sono importanti e soprattutto ti danno consapevolezza dei tuoi mezzi e della tua forza. Sapevamo che all'inizio ci mancava qualcosa, in questo va dato merito la società che è sempre stata vigile comunque sul mercato per inserire alla fine come ha fatto due giocatori importanti che ci hanno aiutato molto, però noi avevamo la consapevolezza comunque di essere un buon gruppo e col lavoro quotidiano siamo riusciti poi a... A garantire queste 15 vittorie... Dello stesso, ecco, che ci sia la stessa forza, la stessa caratura, in vista soprattutto dei play-off che tra l'altro è la fase decisiva della stagione. Ma noi non siamo... cioè sì, sappiamo delle 11 vittorie in fila, però non è che gli diamo molto peso, perché comunque noi sappiamo che ai play-off bisogna arrivarci bene fisicamente e bene mentalmente, noi dobbiamo lavorare su questo, perché poi inizia un altro campionato. Adesso queste 11 vittorie ci hanno dato appunto, come ho detto prima, la consapevolezza di essere una squadra e ci fa... quelle vittorie aiutano comunque a lavorare meglio e quindi noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada. Presidente, con lei spenderei però qualche parolina in più in vista di questo derby, no? Perché, insomma, Bianconeri, primi in classifica, gara ostica, difficile, che può regalare delle grandi emozioni, soprattutto una grande fiducia agli giocatori e alla squadra, ma può anche però portarli un po' giù in caso di sconfitto. No, io credo che sia un buon bacco di prova, perché dopo 11 vittorie ci andiamo a confrontare con la prima in classifica. È un derby, una partita particolare, quindi all'andata ci è andata male per poco, abbiamo perso all'ultimo secondo, è una partita che sembrava vinta, quindi... Ce l'andremo a giocare e forse lì capiremo realmente la nostra forza per i playoff. Quindi sono curioso di vedere questa partita dopo queste vittorie e secondo me ci può dare solamente, sia se si vince o si perde, e sicuramente provare a vincerla in tutte le maniere, ci darà certamente... Sorico Derby, da punto di vista proprio motivazionale, come si preparano i ragazzi, la squadra, quando si hanno degli incontri così importanti e determinanti, direi anche? Ma se per sé credo che sia forse la partita più facile dal punto di vista motivazionale da preparare, perché chiaramente i giocatori sanno dell'importanza della partita, l'importante credo che vorrei sottolinearle è non caricarli di troppe responsabilità, sia a livello tecnico che a livello emotivo, nel senso che cerchiamo di fare la settimana normale come abbiamo fatto per le precedenti partite, non caricandoli troppo ma responsabilizzandoli solo a cercare di fare una partita più che altro di grande orgoglio, di grande dedizione, di grande aggressività. Perché capitano, come in tutti gli spot che si rispettino, una gara importante comunque può rischiare di fare imbattere i propri giocatori in un stress eccessivo e quindi la cosiddetta tremarella, che un po' c'è alle sordi di una gara importante. Sicuramente, già dal sabato comunque vuoi o non vuoi questa partita si devi pensare, perché comunque è la partita, fa storia a sé, non c'entra niente con le altre partite di campionato. Come una finale, no? Praticamente una finale, quindi noi dobbiamo prenderla proprio così, questa è una finale, è la partita, sapendo che andiamo a incontrare una squadra forte, dove ci sarà molto pubblico, dove sappiamo che i nostri tifosi aspettano questa partita da tanto tempo. Però alla fine si preparano, come ha detto Gianluca, non comunque caricando molto di pressione i giocatori, ma si deve vivere così, come viene. Intanto al momento, ecco, per prepararli non solo dal punto di vista motivazionale, ma anche dal punto di vista proprio tattico, fisico, tecnico, al momento voi state giocando a Casal Nuovo, se non erro, e quindi presumo che il vostro sogno sia quello di tornare in Serie A, ma soprattutto di tornare a Palabarbuto, che al momento non può essere utilizzato. Certamente, questa è una delle prime battaglie che stiamo facendo, noi, quello che io credo, il basket deve tornare a Napoli, ma deve tornare a Fuorigrotta, dove è sempre stato, dove prima stava col mare Argento, dove poi è passato a Palabarbuto, e sicuramente il nostro scopo è innanzitutto salire in Serie A, ma poi giocare a Napoli e avere la giusta cornice di pubblico, perché Casal Nuovo, come dico sempre, ringraziamo per l'ospitalità, ma certamente non è la cornice ideale. Non è la culla dove è nata questa grande squadra. Le universiadi possono essere quindi un'occasione sicuramente importante. Per Serie A ci sono due lati, uno purtroppo che con i lavori in corso non ci permettono di giocare a Napoli, e l'altro ci permettono di avere un palazzetto da agosto, da 5.000 posti, dove poter affrontare la stagione successiva, e quindi vedere un attimo se Napoli risponde, io sono convinto che Napoli risponde all'amore per il basket, perché Napoli è sempre stato, dopo il calcio, molto vicino al basket. Chiaramente Napoli è una città che non si può permettere campionati, diciamo, di media classifica, medio-bassa classifica, che si deve sempre puntare in alto. Questo, quando punti in alto, avvicini tutto il popolo napoletano. Presidente, le chiederei un'ultima battuta su questo argomento. Quanto manca ancora per ripristinare i fasti del passato nella culla che questa squadra merita? Io spero che l'anno prossimo riusciremo a giocare in Serie A. Giocando in Serie A inizia a cambiare un po' di fattori. Ho l'appoggio degli altri due soci, che sono Tavassi ed Amoroso, e comunque mi appoggiano in questa, la chiamiamo una sana follia, insomma, perché comunque... Parliamo di un annetto, Presidente. Diciamo, noi, un discorso a lungo, se riusciamo a essere in Serie A, insomma, speriamo di portare un discorso un po' più a lungo, anche perché il nostro piacere, stiamo lavorando anche sulle giovanili, quindi il nostro piacere è portare qualche realtà napoletana a giocare in Serie A. A giocare in Serie A, quindi, un prossimo obiettivo, cosa ci vuole anche da un punto di vista proprio tempistico per raggiungere questo livello? E che cosa forse oggi manca? Ma, diciamo, come ha detto il Presidente all'inizio, è una stagione iniziata con ritardo e questo ha influito anche sul nostro girone d'andata. Chiaramente noi proveremo ad essere competitivi fino in fondo per cercare di raggiungere quell'obiettivo che tutti si aspettano. Alla fine magari faremo un bilancio, speriamo di poterci trovare l'anno prossimo in un campionato diverso, quindi in Serie A2. Se non fosse così si faranno altri discorsi e ci sarà una programmazione, un altro tipo di programmazione che possa portare Napoli, come ha detto prima il Presidente, nel giro di pochi anni a stare dove merita. Direi che tra questi discorsi uno in particolare salta alle orecchie più che agli occhi, cioè il discorso delle giovanili, cioè alimentare la rosa dei ragazzi affinché di qui a qualche anno la squadra possa salire sempre di più. Lo chiederei al capitano che tocca con mano un po' la situazione. Ma sicuramente... Se ci sono dei giovani talenti già che si possono intravedere da adesso. Questo onestamente non lo so, però è un discorso secondo me un po' più ampio. in passato la Palacanesto e le società sportive hanno lavorato molto su questo. Io personalmente sono cresciuto in un settore giovanile dove si puntava molto a far crescere i giocatori. Effettivamente parliamo di 10, 15, 20 anni fa società giovanili davano molto alle prime squadre. Adesso bisogna, secondo me, tornare lì, a lavorare sui giovani perché sono loro, il futuro, ma non nella Palacanesto, ma il futuro dappertutto. Certamente il basket è uno degli sport più seguiti probabilmente dai giovani e forse raggiungere dei livelli elevati, altissimi, permetterebbe ancora di più a conquistare altri giovani. Ah, sicuramente. Sicuramente. Questo è un po' come dappertutto. Penso che il vedere che le cose vadano bene comunque è pubblicizzarlo. Quindi, indubbiamente. Potrebbe diventare un riferimento, come diceva anche lei, subito dopo il calcio se non magari raggiungere il medesimo livello. Io credo quello perché negli anni Ottanta ero tra i primi ad andare al Palazzetto. E c'era un grande fermento. C'era un grande fermento, ma c'era gente che andava allo stadio e poi andava direttamente al managgente a vedere la partita. Quindi c'era il doppio abbonamento. C'erano tante iniziative che comunque facevano sì che il basket a Napoli fosse seguito. Quindi questo è molto importante. Secondo me noi dobbiamo tornare a quei discorsi. Partendo dagli impianti. Esattamente. Grazie, grazie ai nostri ospiti. Complimenti per il vostro lavoro. Ad Maiora, Semper. Noi portiamo fortuna, quindi sicuramente vi auguriamo di vincere il derby, ma soprattutto di proiettare via all'interno dei play-off. Grazie al presidente Federico Grassi, il coach Gianluca Lulli e il capitano Francesco Guarino per essere stati con noi. Grazie. Grazie a voi. Pubblicità, restate con Mattina 9.